ma che dico ma che dico benvenuti scommetto che vi state chiedendo dove siete finiti mi è sicuro che sapete come ho fatto un po' e tanto sappiate che state spiegando non è finita il gioco è appena cominciato è cominciato benvenuti a un'ottio ormolo e un'altra vita benvenuti a un'ottio ormolo benvenuti a un'ottio ormolo benvenuti a un'ottio ormolo se ci sei sei il protagonista se non ci sei non sei nessino come sempre ho il piacere e fordutissimo volere presentare la console che mi fa muovere il culo anche questa notte signori e signori voglio un applauso venirei mi sono spaglio e mi serai islami spagio e mi sono scissi e si è scissio non ci sia Grazie a tutti.